Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. In attesa del verdetto del Consiglio di Stato, il cui ricorso sarà presentato in settimana per sperare nella riammissione in Serie C, oggi è l'ultimo giorno utile per la presentazione di un progetto nuovo a seguito dell'avviso pubblico del Sindaco di Teramo, che miri a raccogliere nuove proposte calcistiche per ricominciare tra i dilettanti, con l'auspicio di vedersi assegnata la Serie D dalla FIGC. Ieri è stata una giornata impegnativa per il Sindaco Gian Guido Delberto. In mattinata si è sentito a lungo con il manager Antonio Mergiotti, che rappresenta un gruppo intenzionato a dare continuità al calcio bianco-rosso. Entro oggi Mergiotti dovrà valutare se presentare o meno la documentazione utile per partecipare al bando. L'unico dubbio dell'ex presidente del Chieti è legato all'impianto di gioco, ma il Sindaco di Teramo ha già puntualizzato che il Bonolis sarà l'impianto in cui giocherà il diavolo, a prescindere dalla categoria, e si farà lui da tramite con il gestore, l'ex presidente Franco Iachini, per mitigare i costi. L'ex presidente del Chieti, entro il tardo pomeriggio di oggi, dovrebbe depositare la documentazione via PEC. Alle vicende del Teramo si sarebbe fatto avanti anche l'imprenditore romano, Lorenzo Ponsuoli, con la sua azienda Santos Caffè, che qualche anno fa ha sfiorato la collaborazione con il Teramo dell'ex presidente Luciano Campitelli. Ponsuoli ieri ha parlato con il Sindaco, D'Alberto. Il suo gruppo sarebbe composto da imprenditori teramani, tra cui Filippo D'Antonio, il presidente della Torrese, che si limiterebbe però ad una sponsorizzazione, Romolo De Baptistis, dell'assicurazione Groupama, che fa capo a Luigi Di Battista, e l'imprenditore Rastelli, figlio del compianto Lido Rastelli. Un progetto dovrà essere scelto dal Sindaco di Teramo e girato alla FIGC, che valuterà se è meritevole di apprezzamento e garantista per il futuro del calcio teramano. Dunque Mergiotti e Ponsuoli, entro la mezzanotte di oggi, dovranno decidere se compiere il passo di buttarsi nel calcio cittadino, in attesa del Consiglio di Stato del 25 agosto, udienza a cui tutti i tifosi del Teramo guardano con grande fiducia e interesse, e sperano che il diavolo possa essere riammesso in Lega Pro. Di certo il ricorso al Consiglio di Stato è un percorso distinto da quello dell'amministrazione comunale, ma è giusto così per mantenere aperte più strade per la ripartenza del calcio, altrimenti si rischia davvero di rimanere senza. Il presidente della Lega Pro, infine Francesco Ghirelli, nella mattinata di ieri ha comunicato che, visto il decreto emesso in via cautelare dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il direttivo, ha fissato l'inizio del prossimo campionato a domenica 4 settembre, con la prima giornata, mentre il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C è stato rinviato a data da destinarsi successiva comunque a via del campionato.